Solo una cosa conta, segui Gesù. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Oggi iniziamo questa settimana con grande gioia e accogliendo la parola del Vangelo secondo Marco, capitolo 10, dal 17 al 27. In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale li corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Gesù gli disse, perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti, non uccidere, non commettere adulterio, Non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Allora egli gli disse, Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse, Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. I discepoli erano sconcertati dalle sue parole. Ma Gesù riprese e disse loro, Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. E' più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio. Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro, E chi può essere salvato? Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse, Impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. Amen. Cari amici, continuiamo la lettura del Vangelo secondo Marco, capitolo decimo. Avevamo visto qualche giorno fa di come Gesù innanzitutto, dirigendosi verso Gerusalemme, si trova in una disputa dove gli chiedono alcune risposte nei confronti del matrimonio e dell'adulterio, dello scioglimento del matrimonio. Poco dopo Gesù dice, guardate questi bambini, a chi è come loro appartiene al regno di Dio. Dovete diventare come i bambini. E oggi abbiamo questo episodio, cosiddetto del giovane ricco. Questo giovane che voleva seguire Gesù, voleva essere perfetto, voleva trovare la via giusta, ma non era disposto a fare la cosa più importante che Gesù gli ha detto. Pur osservando la lecce, osservando tutti i comandamenti, quante volte anche noi osserviamo alcune prescrizioni nella nostra vita, prescrizioni di fede, ma il nostro cuore forse è lontano da Dio. Perché? Perché non è disponibile, come Gesù ha detto, una cosa ti manca, va e vendi quello che hai, dallo ai poveri, avrai un tesoro nel cielo e seguimi. Seguire Gesù non significa soltanto seguirlo in un aspetto della nostra vita, in una camera della nostra vita e tutte le altre camere viviamo come vogliamo. E quindi l'aspetto della fede, e questa è una mentalità razionalista, l'aspetto della fede è più soltanto religioso in un contesto storico, piccolino della nostra vita. Ma Gesù con questo brano, con questo episodio, ci dice legati a Lui, indipendentemente che devi lasciare tutto. Perché molto spesso quando accogliamo, sentiamo questo brano, diciamo questo è per le suore, per i preti, per i religiosi. Ma non è così. Ogni cristiano è chiamato nel proprio cuore a vendere tutto, cioè a mettere in secondo piano. Dio o è al primo posto e Gesù Cristo o è davvero il Signore della nostra vita e tutto è sotto di Lui e tutto passa quindi in secondo piano, oppure non è Dio, oppure la nostra fede è religiosità o si trasforma in religiosità dove un culto esteriore tende a soddisfare un'esigenza interiore di essere salvati ma in realtà il nostro cuore è lontano da Dio. Il nostro cuore mette Dio al secondo, terzo, quarto posto o all'ultimo posto. però grazie ad alcune pratiche religiose ho il cuore in pace. Sono andato a messa la domenica, ho fatto le mie preghiere ma Gesù non vuole questo. Gesù vuole tutto il tuo cuore. Amen. È meraviglioso andare innanzi a Lui, ascoltare le sue parole e Lui ci ha detto anche qualche giorno fa dal Deuteronomio capitolo 6 Ascolta Israele Amerai Dio con tutto il tuo cuore la tua mente le tue forze. Questa è la via fratelli e sorelle. Quindi la cosa più importante la cosa che conta è seguire Gesù come con tutto il nostro essere nella nostra vocazione nella nostra professione dovunque noi siamo qualunque cosa facciamo perché Lui ha mandato a noi il Consolatore lo Spirito Santo che ci accompagna sempre. Allora vi invito pregate insieme a me e diciamo grazie Signore Gesù. Grazie perché oggi mi indichi la via di seguirti di onorarti e metterti sopra ogni cosa. Grazie Gesù perché solo questo conta metterti al primo posto darti il centro nel mio cuore e nella mia vita e nella mia famiglia. A te la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Cari amici ecco lo slogan di oggi solo una cosa conta segui Gesù. Seguiamolo con tutto noi stessi dovunque saremo qualunque cosa faremo ma soprattutto testimonia che Gesù è con te che Gesù è al tuo fianco. Grazie per avermi accolto. Un caro saluto è un abbraccio da parte mia e della coinonia Giovanni Battista. Ci vediamo domani. Ciao. Parlami Signore Ti ascolto Parla Signore perché il tuo servo ascolta Parlami Signore Ti ascolto per avermi accolto. Parlami Signore